lunedì primo giugno 2020 bentornati su cper tv i box della lombardia finalmente riaprono quest'oggi e quindi lentamente stiamo ritornando alla normalità cosa c'è di meglio per festeggiare se non un bel benchmark world anzi una bella girl ovvero barbara ebbene cinque round eventi pull up 30 push up 40 ammazzi tap 50 squat e tre minuti di resta tra un round e l'altro pesi scalature sulla grafica qui di fianco per oggi è tutto ci vediamo domani con un trovato insieme su cper tv